Buongiorno amici, bentornati sul canale. Due parole sul discorso dell'alluvione, della crisi meteorologica e sti cazzi. Volevo dire che non mi piace farlo, però questa volta farò come fanno altri youtuber che voi seguite. Ve l'avevo detto! E a cosa mi riferisco? Mi riferisco a quei video che feci mesi e anni fa, in cui vi facevo vedere sia in Italia, in caso specifico era a Pavia, lungo la Alzaia, lungo il naviglio pavese, mentre ero fuori a correre, sia da casa mia in Inghilterra. Immagini del cielo che era veramente straziato da scie, da strisce, una roba inguardabile, vergognosa. E vi chiedevo, ma secondo voi è normale? Vi chiedevo, ma secondo voi è possibile credere quando vi dicono che sono solo condense dei motori? Quanto dovete essere dei subumani per farvi abbindolare così? Ma l'altro ne sappiamo che lo siete, visto che vi siete fatti abbindolare mettendovi pezze da culo, carta da culo in faccia, sopra la bocca, sopra il naso, e vi siete fatti fare iniezioni senza sapere cosa fosse, fidandovi dalla scienza. Quindi sappiamo già che la maggior parte di voi non capisce una in merita farla. Però era giusto così, per ricordarvi che io ho già fatto dei video di denuncia nel mio piccolo, ovviamente rischiando di farmi additare a complottista, a sentirmi commenti tipo Ehi Jacopo, ma non vorrai mica... tu che sei ingegnere, non vorrai mica farmi credere che sostieni, credi a complotti, a cose che potrebbero associarti al discorso delle scie chimiche. Ragazzi, qua non è credere o non credere, io uso i miei occhi e guardo. Il cielo non è mai stato così denso e così zozzo come lo è negli ultimi anni, è una cosa vergognosa. E non a caso il clima è anche cambiato, nel senso che ci sono stati dei cambiamenti che, se non li avete notati, non proverò a spiegarvi, ma non sono quelli che vi dicono loro che si alza la temperatura, no. Sono cose tipo nuvole che non sono naturali, sensazione di afa, spossatezza, stanchezza, sono tutte cose che secondo me non sono... non tornano tanto, non mi sembrano tanto normali. Potrei sbagliarmi ovviamente, perché queste sono solo opinioni personali, sensazioni personali. Comunque, quello che volevo dirvi, che io mi ero già esposto, rischiamo di farmi prendere per il culo da chi non capisce niente, ma non mi interessa, perché visto che chi non capisce niente non dovrei dargli nessuna importanza. Però mi ero già esposto denunciando che non è normale questo inquinamento atmosferico, vogliamo chiamarlo così, questi agenti emessi nel cielo, queste nuvole che non sono normali. L'avevo già fatto, ci sono alcuni video che troverete sul canale, altri li ho nascosti, perché tanto mi ero reso conto che non serviva a nulla e mi portava solo pubblicità negativa. Quindi, comunque, io avevo già avuto il coraggio di dirlo, ed ero ovviamente complottista, ignorante, negazionista, quello che volete. Adesso, però, dopo che è successa la bomba d'acqua in Emilia, dopo che sono stati tre mesi senza pioggia, tre mesi senza pioggia, e poi ha piovuto tutto per una settimana, quello che ha fatto esplodere tutto il sistema, perché è siccità, la terra non può più raccogliere l'acqua, i fiumi non sono mai stati puliti, nessuna cura del territorio, la sapete, la storia non ve la devo spiegare. Quindi è successa una catastrofe. Sono cominciato a uscire sui media mainstream un sacco di cose, argomenti relativi al cloud seeding, al fatto che si possono piantare dei semi nelle nuvole e far piovere, oppure non far piovere. Volevo farvi vedere questo programma sulla 7, brevemente, di cosa parla. Si chiama inseminazione delle nuvole, ed è una cosa che viene fatta ormai da circa 70 anni, per esempio in Cina, che ne fa un uso massiccio, ma anche negli Stati Uniti d'America, anche in Australia, anche in Francia. Ok, mi fermo qua. Se volete vedere tutto il video, cercate Piazza Pulita su YouTube, oppure andate sul canale Telegram, Livitaly Official, e troverete lo spezzone in cui parla di questi argomenti. Vi dice come la Cina, durante le Olimpiade, ha impedito la pioggia, spruzzando nel cielo la merda di qualche tipo, e ha impedito pioggia. Oppure vi racconta come nei paesi, se non ero in Arabia, o in Emirati Arabi, avessero fatto piovere per 4-5 giorni di fila ed era uscito giù un casino, perché avevano inseminato il cielo di questi materiali, questo argento, queste... Non so cosa sono, non mi interessa, però avevano manipolato il clima. Vi posso dire di più, se non ero negli anni 40 in Inghilterra, posso andarlo a cercare su un libro in cui lo spiega, c'è anche su Wikipedia. In Inghilterra c'era stato un allagamento di un villaggio, erano morte delle persone, ed era stato ufficialmente detto che erano stati dei test di geo-ingegneria per cambiare il tempo, avevano fatto piovere, era uscito giù un casino che aveva portato via metà del paese. Questo negli anni 40, 40, 1940 o 50, una roba di questo tipo. Questo per dirvi, e aggiungo anche che ci sono dei... che sono tutte cose documentate, questo qua della Cina, dei paesi arabi, li hanno fatto anche nevicare, se non ero, su Dubai, hanno fatto robe assurde che non potrebbero succedere se non manipoli il clima. Quindi sono cose documentate, è una tecnologia che esiste, che è stata fatta, che è stata spinta, e che... quindi se negli anni 40, 50 potrebbero fare certe cose, immaginatevi cosa possono fare oggi. Forse un'idea di quello che possono fare oggi l'avete intuita negli ultimi... se avete aguzzato le antenne, se si può dire così. Aggiungo anche che in merito esistono dei trattati in cui gli stati, tra di loro, si impegnano a non utilizzare il clima come arma per tanneggiarsi o per... non mi ricordo i dettagli, però c'era tipo un trattato firmato da tutti gli stati in cui dicono che si impegnavano a non utilizzare manipolazioni climatiche per danneggiare, eccetera, o toccare il clima degli altri paesi. E' nulla, quindi è interessante come adesso Piazza Pulita spiega cos'è il cloud seeding, e ovviamente lo fa con un'inesattezza, vi spiegano cos'è la manipolazione del clima, però lo girano in questo modo, vi dicono che la colpa è dell'uomo. Vogliono farci credere, probabilmente, a un certo punto vogliono farci credere che le scie chimiche, la manipolazione del clima sia fatto per combattere il cambiamento climatico. Vabbè, comunque ve lo potete guardare, come sempre vi dando delle informazioni, poi lo spin che ci mettono sopra è utile a loro, quindi ve le dicono anche le cose, ma vi danno una razionalità, una logica e compromessa, perché giustamente vi devono pur sempre inculare, come si suol dire. Volevo anche dirvi che c'era un'altra cosa che volevo farvi vedere, ha questo qua, che è un articolo del 97, guardate. L'inseminazione delle nuvole, la pioggia cade a comando, l'Italia è all'avanguardia della sperimentazione, l'organizzazione meteorologica mondiale ha affidato a Tecnagro il contingentamento del programma di Mediterraneo in Medio Oriente. E qui vedete l'aeroplano che manda dell'amore sulla nuvola, la nuvola fa piove. Questo è del 97, eh? Nulla. Quindi questo, quindi questo. Questo è un video della serie, ve l'avevo detto. Prendono per il culo i cosiddetti complottisti, ma come sempre, su quasi tutto, direi che negli ultimi tempi i complottisti hanno avuto ragione. E a me non è che interessa più di tanto avere ragione, ma mettere il seme del dubbio nei cervelli inferiori che potrebbero a un certo punto svegliarsi. Chi che è già sveglio ovviamente sarà d'accordo con me, capirà quello che dico. Chi invece non sarà d'accordo è un problema suo. Alla fine siete voi che non capendo quello che succede nel mondo poi pagherete il prezzo più grave. Mentre chi invece riesce a capire quello che succede può in qualche modo limitare i danni. Fino a un certo punto è perché. Purtroppo i crimini che stanno venendo effettuati sono su scala globale, mondiale. Quindi interessante, ripeto, notare come adesso il mainstream faccia programmi TV, coincidentalmente succede l'emergenza in Emilia, vi fanno un programma sul cloud seeding. Veramente strano. Andate su Google, cercate cloud seeding, troverete diversi articoli che fino a qualche sei mesi, anno fa, non avreste mai trovato. Avreste solo trovato dei bunker che dicono le shee chimiche sono una cazzata, non esistono, sono robe da complottisti. Poi ci butterebbero, probabilmente ci buttano dentro 5G, il vaccino, la terra piatta, fanno tutto un minestrone, gli alieni, gli UFO. Buttano dentro di tutto, fanno passare tutto il discorso come una stronzata e la sminuiscono. Invece hanno cominciato a cambiare registro, hanno cominciato a ammettere che è possibile farlo, che lo si fa da 100 anni, che è l'Italia all'avanguardia. Comunque sia, queste cose le capiremo in pochi. E il resto delle pecore crederanno alla versione ufficiale che a breve sarà il cambiamento climatico causato dall'uomo. È stato all'origine di questo, questa dramma in Emilia, e di conseguenza sarebbe meglio che si effettuassero delle restrizioni, la vostra libertà, perché mettete troppo CO2 e scaldate troppo il pianeta. Vedrete che sicuramente questa crisi climatica artificiale, molto probabilmente creata al tavolino, verrà manipolata per implementare rigide restrizioni col clima, perché, come ho letto in un altro articolo, se non era d'amato, qualcuno amato ha detto che bisognerà utilizzare il metodo COVID per gestire la crisi climatica in termini di restrizioni e contingente a me gestione della crisi, perché se no potremmo avere altre regioni allagate. Fanculo va. Con questo il vostro complottista di fiducia vi saluta e ci vediamo alla prossima. E mi guardate in alto, eh! Guardate! Fatevi qualche domanda, non guardate solo il vostro cazzo di cellulare con aperto Holyfans, ok? Ciao!